Si cercano ininterrottamente il piccolo Noah di Cinque Mesi e sua nonna Sabine, trascinati via dall'ondata di Piena che li ha travolti a Mulino delle Fontanacce nel comune di Montecatini-Val di Cecina. I ponti sono interrotti, la viabilità è messa a dura prova, ma le squadre dei soccorritori operano H24, da terra con le unità cinofile e alzando droni, oltre all'appoggio via aerea di due elicotteri. Anche la foce del fiume Cecina è battuta, le condizioni meteo sono migliorate nettamente, ma sul territorio resta la devastazione causata dal nubifragio di lunedì, con oltre un metro di fango e detriti che invadono le strade e i campi della zona. Le ricerche si sono spostate verso sud, non più vicino alla casa presa in affitto dalla famiglia tedesca, ma sull'alveo del fiume. Sono oltre un centinaio le persone, tra vigili del fuoco e volontari della protezione civile, impiegati. Perlustrano il territorio e il lavoro delle ruspe diventa fondamentale per sollevare gli alberi crollati spazzati via dall'onda di piena. Sul posto anche i nuclei sommozzatori fluviali, squadre che devono battere un territorio vasto sormontato da detriti con un unico obiettivo, riportare ai genitori di Noa, salvi per miracolo, insieme al nonno, il loro piccolo bambino, insieme alla nonna, che al momento della tragedia lo teneva in braccio.